carissimi amici di hotbreak channel ben ritrovati oggi per la seconda o terza volta ora non ricordo bene farò un video su specifica richiesta di uno di voi follower che facendo leva sulla mia indiscutibile indiscussa passione per il black rifle mi chiede come fare a pulire in maniera corretta la sua carabina semiautomatica quando si utilizzano le munizioni di surplus con innesco corrosivo ebbene sì chi ha un M4 chi ha un AK non può resistere alla tentazione di utilizzare questo munizionamento che negli ultimi anni si trova abbastanza facilmente sul mercato complice il costo estremamente contenuto della munizione completa che rende addirittura anti economico la ricarica domestica di questi calibri essenzialmente parliamo di 7,62x39 per gli AK e i cloni di 7,62x54R per quello che riguarda Mosin Nagant o addirittura Dragunov SVD ho ancora 223 Remington e 308 Winchester per gli omologhi fucili semiautomatici della fascia di influenza NATO ma perché dobbiamo stare attenti all'utilizzo di queste munizioni? esistono due motivi in particolare che ci devono tenere allertati quando facciamo uso delle surplus per motivi appunto economici e anche perché di solito le spariamo su armi che utilizziamo tirando tantissime cartucce ad ogni sessione come prima cosa prima di procedere in tutte quelle che sono le operazioni della pulizia facciamo il nostro check di sicurezza sul nostro AK-47 verifichiamo che non ci siano colpi nel serbatorio operiamo il nostro scarrellamento e facciamo sempre il check di sicurezza visivo per cui andiamo a verificare con l'occhio che in effetti non ci sia camerato alcun che e siamo a questo punto pronti per maneggiare con tutta sicurezza la nostra arma per le operazioni di pulizia in effetti su un black rifle le esigenze di pulire bene la canna non risiedono moltissimo in quello che è la precisione finale sul bersaglio come abbiamo visto in un video simile a questo che abbiamo già fatto sulla pulizia delle carabine laddove si fanno tutta una serie di operazioni per una pulizia estremamente fine per non pregiudicare quello che è il risultato al bersaglio a distanze medio lunghe o lunghissime sui black rifle la pulizia può essere anche volendo un po' più glossolana perché le prestazioni che andiamo a richiedere generalmente a questo genere d'arma sono balisticamente meno difficili perché si spara a 50-100 metri generalmente distanze in cui tante chiacchiere che ci siamo fatti anche sulla ricarica perdono un po' di senso e si può sparare più o meno qualsiasi cosa ma la pulizia è fondamentale sugli M4 perché hanno un sistema meno granitico di riciclo a fuoco dell'arma rispetto alla K anche in virtù di una munizione che è dotata di pressioni di esercizio più bassi e volumi di gas prodotti inferiori e come dà meno rinculo sulla spalla dà meno energia per attivare i meccanismi di scarrellamento e riarmo ma nella K i problemi sono più legati dal punto di vista del munizionamento di surplus perché generalmente il surplus di 7,62x39 quindi munizioni di origine militare demilitarizzate generalmente dai paesi di influenza ex patto di Varsavia sono munizioni che hanno giaciuto per 40 anni dentro casse in depositi per l'uso bellico e non è che adesso questi depositi vengano chiusi e smantellati semplicemente dopo un tot di anni vengono rinfrescate le riserve di munizionamento e quelle munizioni che vengono estratte per essere sostituite con cartucce nuove di fabbrica sono assolutamente efficientissime in grado di far divertire ancora tanti appassionati per cui vengono demilitarizzate e distribuite sul mercato civile ora queste munizioni di oggi abbiamo detto hanno magari 40-50 anni alle spalle e in particolare tantissimi lotti di 7,62x39 7,62x54R 2,23 Remington 308 Winchester utilizzano gli inneschi che si usavano 50 anni fa a base di sale di mercurio sali di mercurio che hanno questa capacità detonante che hanno tutti gli inneschi a differenza della polvere che è deflagrante ma che come tutti i sali tendono a operare un'azione di intacco e danneggiamento dei materiali ferrosi e non pensiate che questa corrosione dovuta al residuo dell'innesco sia un fenomeno che si innesca scusate il gioco di parole in un tempo lunghissimo in realtà già dal giorno successivo a cui avete sottoposto la vostra arma all'utilizzo di questo genere di munizionamento inizia l'attività di corrosione per farvi meglio capire quanto è veloce e in che termini è aggressiva vi faccio vedere un piccolo filmato che ho trovato su youtube e che praticamente espone un piccolissimo e facilissimo esperimento casareccio in cui si prendono dei bossoli innescati con degli inneschi corrosivi si svuotano della carica propellente si privano dell'ogiva e vengono posizionati su una tavoletta su tanti chiodi di ferro vengono poi esplosi questi inneschi in maniera assolutamente casarescia ossia usando un chiodo e un martello e dopo una notte di azione di questi sali sul ferro del chiodo si vede come tra un chiodo esposto all'azione di un innesco normale moderno privo di sali quindi non corrosivo e un innesco vecchio attivato con dei sali di mercurio come appunto in un chiodo sia già molto evidente l'azione corrosiva e il livello di ruggine che si accumula in un'unica notte di tempo mentre negli altri questo fenomeno si è completamente assente si ma non dovete aver paura non si tratta di un'operazione particolarmente difficile e neanche complessa quanto quella che abbiamo visto per la pulizia approfondita della carabina da tiro a lunga distanza qui alcune precauzioni ci aiutano a risolvere i problemi in una maniera semplice se non semplicissima rapida e comunque alla portata di tutti senza andare a affrontare chissà quante fasi di pulizia senza dover utilizzare dei prodotti chimici specifici o degli scovoli particolari per poter dormire sonni tranquilli procediamo con le fasi consuete dello smontaggio di campagna che nel nostro caso, nel caso della cappa sono la rimozione del dust cover lo svincolo del gruppo di molla di recupero e quindi l'arretramento e l'estrazione completa del gruppo otturatore-pistone anche l'otturatore lo dividiamo nelle su due parti della testina rotante e del corpo portatturatore e siamo pronti a iniziare le nostre fasi di pulizia prima cosa che faremo adesso è spostarci in bagno dove irroreremo abbondantemente con acqua corrente canna, interno della canna, interno del tubo di recupero dei gas e tutte le parti che vanno ad essere interessate dall'esplosione della nostra cartuccia questo perché? Perché il sale di mercurio appunto essendo un sale tenderà a sciogliersi nell'acqua per soluzione bene, come ci muoveremo a questo punto? c'è chi sostiene che si debba usare o sia meglio usare acqua calda e sapone neutro in realtà l'azione del sapone è assolutamente superflua se non addirittura quasi negativa per disciogliere il sale quello che assicuro è che l'acqua calda invece può essere un buon consiglio perché come sappiamo bene tutte le reazioni chimiche vengono a essere in qualche modo catalizzate dal calore quindi accelerate in qualche maniera cosa faremo? prenderemo la nostra cipolla il nostro doccino come lo volete chiamare e smonteremo il tubo dal supporto facciamo qui attenzione che di solito c'è sempre una rondella una guarnizione e apriamo l'acqua calda cominciando a bagnare quello che è tutta la parte meccanica non abbiate paura di bagnarlo perché i trattamenti protettivi superficiali della vostra carabina sono studiati proprio proprio per proteggere dall'azione dell'acqua sulle superfici metalliche a questo punto cominciamo a schizzare il getto d'acqua direttamente nel tubo di recupero dei gas e nel tubo della canna come vedete dalla parte finale della nostra canna esce tutto il getto già facendo questa operazione tutti gli eventuali residui dei sali contenuti per effetto dell'esplosione dell'innesco che vorranno essere completamente disciolti a questo punto se vogliessimo e vogliamo fare le cose in maniera molto accurata svegliamo anche il gas tube per raggiungere più agevolmente anche i recessi più nascosti delle zone dove i gas vanno ad agire a passare e a depositare gli eventuali residui di sale mettiamo qualche minuto che gli eccessi di acqua vengano ad essere drenati via in modo che poi dopo si possa asciugare con un po' di carta e procedere alle attività di pulizia assolutamente normali per lo stoccaggio finale dell'arma pulita e asciutta adesso prendiamo un semplice panno e cominciamo ad asciugare tutte le ultime gocce d'acqua residue che rimangono appese alle nostre superfici metalliche per evitare appunto che laddove i sali non esercitano la loro azione sia l'acqua a attaccare le superfici delle nostre delle parti più delicate delle nostre armi asciughiamo tutte le parti una per una già in questa fase se non avete sparato migliaia di cartucce gran parte dello sporco verrà via agevolmente come vi ho detto in precedenza ve lo ricordo ancora è un tipo di pulizia che non potete esimervi di fare nell'immediatezza dell'utilizzo cioè oggi andate a sparare massimo domani dovete fare la pulizia per i residui di sali di innesco perché altrimenti in due tre giorni comincerà a fiorire l'ossidazione su tutte le superfici della vostra arma esterne e interne il problema è che poi rimuovendo queste piccole particelle di ruggine verrà a scoprirsi una parte del rivestimento della brunitura della vostra arma irrimediabilmente danneggiata per cui quando levate la ruggine la ruggine si porta via anche la brunitura che ha sotto adesso ritorniamo sul banco di lavoro per fare una pulizia non estremamente accurata come vi ho presentato nel video specifico della pulizia per le armi utilizzate nel tiro a lunga distanza ma useremo un altro metodo di pulizia molto più rapido più da campo più se vogliamo alla portata anche dei più pigri per darvi proprio una differente impostazione per poter effettuare le operazioni di manutenzione delle armi ed eccolo qui l'attrezzo che ci permetterà di essere molto più rapidi ma lo stesso molto efficaci e pulire senza grandi sforzi e gran perdita di tempo l'interno della nostra canna è un serpente di stoffa che contiene al suo interno una piccola spazzoletta di rame come quella che si usano messe innestate in testa agli scovoli e è dotato di un filo con un peso per poter essere inserito agevolmente nella canna e fatto uscire per gravità dall'altro lato vediamo come si usa dopo averlo srotolato la prima operazione che faremo è quella di spruzzare all'interno della canna un detergente voi sapete che io adoro consiglio e uso da sempre il WD40 pur non essendo uno dei miei sponsor e lasciamo agire per qualche minuto il lubrificante diluente pulitore che è appunto il WD40 all'interno della canna per staccare gli eventuali residui di combustione o per ammorbidire sciogliere leggermente i residui di ramatura all'interno delle righe dopodiché inizieremo a scovolinare grazie al nostro serpente di pulizia una volta che il nostro pulitore ha iniziato la sua azione disincrostante sostanzialmente iniziamo a infilare il cavetto dotato di peso all'interno della canna finché non uscirà dalla volata a questo punto tiriamo e all'interno della canna verrà a passare la nostra stoffa che è del calibro questi serpenti di pulizia li trovate di calibri specifici questo è per il 7,62 lo uso volentieri sul mio AK questo è per il 9 mm e lo uso con profitto anche sulle pistole all'occorrenza ma ce ne sono di tutti i calibri addirittura ne uso uno molto grande per il calibro 12 su questo è anche più facile individuare la spazzolina di rame che è racchiusa all'interno una volta che tirando dalla volata esce il primo capo del mio panno prendo la parte finale del cavetto di immissione e la faccio passare attraverso questo cappio in modo che ogni volta che passerà tutto il filo tutta la corda pulente mi troverò di nuovo il cordino per richiamare nuovamente la mia corda di pulizia e quindi ripetere in continuo l'operazione per 5 6 10 passate quanto ho voglia o a seconda delle condizioni in cui è l'interno della canna perché ho sparato magari tanti colpi o non usando munizionamento corrosivo è tanto che non la pulisco e voglio fare una pulizia di fino approfondita su una canna molto sporca come vedete i residui qua su questo cordoncino sono quasi assenti perché la canna era già sufficientemente pulita non è stata usata moltissimo però anche se si spara una sola munizione corrosiva è bene effettuare questo genere di pulizia una volta terminata la pulizia cosa faccio posso prendere il mio serpente di stoffa nettatore e non è come dicevo prima non è questo il caso però posso pulirlo lavandolo in lavatrice e facendolo ritornare in perfette condizioni fatto ciò procedo alla pulizia stavolta con lo straccio e con un po' di solvente che è sempre il mio WD40 vado a rimuovere gli eccessi di combustione che vanno che sono andati a incrostare la parte la superficie frontale del mio pistone di recupero dei gas se lo voglio far tornare completamente nuovo mi basterà utilizzare una spugnetta leggermente abrasiva di quelle che si usano per fare la manicure delle unghie e quindi non sono abrasivi molto violenti perché sono utilizzati sulle unghie umane e riescono a scaffire solamente l'incrostazione di combusto e non le superfici metalliche sottostanti ecco come potete vedere spero si veda bene dopo pochissimi colpi di spugna abrasiva il nostro pistone torna veramente come nuovo completata la testa del nostro pistone possiamo utilizzare l'angolo della nostra spugnetta abrasiva per pulire alla perfezione anche gli incavi subito retrostanti la parte finale del pistone stesso e farli tornare completamente nettati come nuovi privandoli di ogni residuo di combustione per la testina del nostro otturatore nel caso di oggi della pulizia di oggi non abbiamo assolutamente grossi residui per cui è sufficiente l'utilizzo anche di un semplice fazzolettino di carta da quelli da cucina e ogni residuo già è stato rimosso per cui possiamo rimontare adesso la testina rotante e iniziare a rimontare l'arma perché la pulizia è pressoché finita reinseriamo il nostro pistone nella sua guida e il nostro otturatore anche lui nelle rispettive guide di scorrimento rimettiamo in sede la molla di recupero con il guidamolla a questo punto giunti possiamo completare l'operazione spruzzando leggerissimo film di ud40 a modi protettivo e lubrificante e quindi reinseriamo il nostro dust cover e la nostra pulizia per evitare i problemi dovuti ai residui di sali è conclusa possiamo ricoprire aiutandoci con le dita magari tutta la parte esterna con un sottile strato di ud40 per riservare al massimo quelle che sono le finiture esterne di brunitura originale questo eviterà che quello che non ha fatto magari il nostro innesco corrosivo lo possa fare l'umidità contenuta negli armadietti o nelle zone di stoccaggio dove andremo a tenere magari per qualche tempo senza poterlo controllare il nostro fucile il discorso vale ovviamente anche sui caricatori allora quando questi siano quelli in lamierino che venivano usati spesso e volentieri dai paesi del blocco sovietico come vedete qua c'è un segno di precedente ossidazione rimossa che però si è portata via in parte anche quello che è la copertura di protezione di brunitura come vi accennavo prima nelle fasi di pulizia una volta fatto questo è un danno che non si torna indietro a meno di non ribrunire o ritoccare con un imbrunitore quella parte lì in chiusura voglio regalarvi un'ultima perla un'ultima allerta su quello che riguarda il munizionamento di surplus quando vedete che accostando un magnete alla vostra ogiva questa viene attratta come vedete qui siete sicuri di essere in presenza di un rivestimento a base ferrosa ora vi faccio vedere un'ogiva ramata normale come vedete non rimane attaccata mentre su quelle a base ferrosa ahimè succede che la calamita si attacchi il ferro è un materiale che è molto più resistente del rame delle ramature o delle coperture delle blindature delle munizioni normali e cosa fa quando passa attraverso le rigature della canna si comprime l'abbiamo visto in tante occasioni si deforma e però esercita una frizione molto più potente perché offre una resistenza molto superiore a un grado di durezza più elevato per cui se sparate surplus con camiciatura mantello dell'ogiva altamente ferroso se ne sparate tante consumano moltissimo l'interno della canna per cui se ne sparate decine di migliaia vi troverete in breve tempo ad avere un black rifle a canna liscia come un fucile calibro 12 o in questo caso calibro 410 altri due piccoli incisi sulle munizioni surplus sono che la sede dell'innesco non ha il classico foro di vampa unico centrale come avviene sulla maggior parte degli inneschi per uso civile di impostazione moderna ma ha due forellini laterali il vecchio e classico innesco berdan sviluppato e utilizzato essenzialmente in ambito militare ma che diventa molto difficoltoso da ricaricare perché non consente il decapping con lo spinotto centrale inoltre anche il corpo del bossolo non è in ottone nel classico ottone ma è in materiale ferroso per cui meno facile da riformare nel dai ricalibratore è più facile ahimè a incastrarsi in questo dai quindi a creare danni alla vostra pressa e la vostra disperazione anche per questa volta spero di avervi dato delle informazioni utili di avervi magari dato anche qualche dritta qualche trucchetto interessante se vi è piaciuto questo video vi invito a cliccare il pulsante a destra del vostro teleschermo per esprimere il vostro apprezzamento con un fantastico like ed infine per aumentare il bacino degli utenti che possono trarre giovamento da questa piccola guida condividete questo video su tutti i social se infine è la prima volta che siete su questo canale o ci siete già stati ma ancora non vi siete iscritti affrettatevi ad effettuare l'iscrizione cliccando sopra il mio faccione con la maschera antigas attivando la campanella delle notifiche non perderete più neanche un video perché in tempo reale verrete informati anche per questa volta è tutto appuntamento come di consueto alla prossima